Musica Noi abbiamo la fortuna di essere in questo impianto, proprio in Biogibi d'Albertis a San Puglioso, quindi una zona molto popolosa e comunque vicina al centro, dove abbiamo la fortuna di poter ospitare numerosi utenti dai 9 mesi agli ultra 65 anni e bene o male abbiamo oltre un migliaio di iscritti più o meno suddivisi, metà bambini, ripeto dai neonati agli adolescenti ragazzi di 16-18 anni, per passare poi agli adulti per attività di scuola nuoto e soprattutto di fitness, quindi acquagym, senza dimenticare le gestanti, quindi li prendiamo ancora prima che vengano al mondo e poi facciamo attività specifiche per ultra 60 anni, quindi una ginnastica, noi lo chiamiamo nuoto benessere, che è una ginnastica dolce, oltre alle varie attività agonistiche che vengono svolte da due società prevalentemente Rarenante a San Fruttuoso e Andrea Doria, per i quali aspettiamo gli atleti giusto nell'impianto qui di San Fruttuoso. Noi abbiamo la possibilità appunto di dirottare i ragazzi che hanno la passione verso l'attività agonistica sia di nuoto che di pallanuoto, con le società con le quali collaboriamo, che sono nello specifico Andrea Doria e Rarenante a San Fruttuoso.